Grazie a tutti. Il lavoro è stato dato alle fiamme un locale di servizio del bar. Carabinieri sulle tracce dei responsabili che sarebbero minorenni. Appello del dirigente scolastico Antonello Colle d'Anchise. Bisogna lavorare sulla prevenzione educativa. Questa mattina abbiamo intervistato alcune persone al consueto appuntamento del mercoledì al mercatino. Quasi un'anime il coro di chi ha parlato ai nostri microfoni. Serve maggiore impegno per la pulizia e il decoro della città. Michele Paes e Forza Italia presentano una mozione per chiedere al sindaco di far sentire la voce di Alghero per l'istituzione dell'area metropolitana del Nord Sardegna. Una delle poche possibilità per i comuni per intercettare importanti finanziamenti europei. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Ben ritrovati. Questi erano i titoli dell'edizione di oggi del nostro telegiornale. Apriamo purtroppo parlando di cronaca e dell'incendio, del brutto episodio che è avvenuto nella tarda serata di ieri. A punto di un incendio perché è stato dato alle fiamme il locale di servizio del bar del liceo scientifico Fermi. E secondo i primi accertamenti e le testimonianze raccolte sarebbe opera di alcuni minorenni. Non è la prima volta che l'istituto di via 20 settembre viene preso di mira, visto che in passato è stato oggetto di altri atti vandalici. Ma ripercorriamo quanto è avvenuto ieri sera nel servizio a cura di Stefano Soro. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Ci sarebbe anche un testimone che avrebbe visto alcuni ragazzini nel retro dell'istituto. Particolare che sgombrerebbe il campo dai dubbi sull'origine dell'incendio che ieri ha interessato il locale di servizio, retrostante il bar dello scientifico. E proprio grazie all'allarme fatto scattare subito e all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, si sono potuti evitare danni peggiori. Le fiamme hanno distrutto le porte e le pareti in cartongesso del locale di servizio utilizzato dal gestore del bar, ma fortunatamente non hanno raggiunto il bar stesso e altri locali dell'istituto di via 20 settembre. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno impiegato almeno un paio d'ore per domare le fiamme, anche i carabinieri che hanno immediatamente aperto le indagini e accertato l'origine dolosa dell'incendio. Assieme agli uomini della scientifica sono stati fatti tutti i necessari rilievi per individuare eventuali tracce lasciate da chi ha piccato l'incendio e che una volta vistosi scoperto ha abbandonato in fretta e furia la scuola facendo perdere le proprie tracce. Sarebbe un gruppo di minorenni, ma sul numero esatto e sulla loro età ancora non è dato sapere nulla. I carabinieri sono sulle loro tracce e da qui alle prossime ore potrebbero esserci importanti sviluppi. Questa mattina ci siamo anche recati al liceo scientifico Fermi. Abbiamo sentito il dirigente scolastico Antonello Colledanchise che ieri sera si è ovviamente precipitato sul posto appena saputo dell'incendio. I nostri microfoni ha lanciato un appello per lavorare sulla prevenzione educativa dopo l'episodio di ieri che come detto arriva dopo diversi atti vandalici compiuti al liceo scientifico e non solo. Questi ultimi avvenimenti che sono successi presso il liceo scientifico di Cofermi di Alghero devono fare un attimino riflettere perché ieri notte è andato a fuoco tutto il retro bottega del bar che è lo spaccio che c'è all'interno del liceo scientifico. Però è vero anche che i vandali 3-4 volte all'anno almeno entrano, rubano, fanno dei furti in generale e anche creano dei danni abbastanza onerosi per la provincia e per la scuola. A questo punto c'è anche da fare una riflessione. È vero che alcuni dicono che bisogna mettere le telecamere, bisogna fare in modo che ci sia più controllo, ma questo non è sufficiente. Io credo che bisogna partire un pochino dall'educazione dei ragazzi. La maggior parte di questi ragazzi, visti da alcune persone che sono qui nelle zone, pare che abbiano un'età che va dagli 11-12 anni fino al massimo di 13-14. Quindi c'è da chiedersi dove sono i genitori, dove sono tutti gli educatori che lavorano nelle parrocchie, che lavorano ad Alghero, eccetera. Qui bisogna fare una riflessione di questo tipo, cioè cercare la prevenzione attraverso l'educazione nella scuola elementare e soprattutto nella scuola media. Ma direi che si incomincia già dalla scuola d'infanzia a insegnare che cos'è il rispetto. In questo caso sta mancando il rispetto. È inutile mettere le telecamere se poi i ragazzi comunque non vengono educati a questo. Allora io credo che una grande riflessione che bisognerà fare ad Alghero, probabilmente da subito appena si riaprono le scuole, sia insieme al comune di Alghero, insieme ai servizi sociali, sia di come fare prevenzione nei confronti di questi atti vandalici. E a proposito sempre di atti vandalici, purtroppo dobbiamo segnalare quanto è avvenuto sul lungomare Dante, dove è stata letteralmente danneggiata una delle sedute in pietra posizionate sul marciapiede. È vero che non è da escludere un danno accidentale, ma accidentale, scusate, magari causa di una manovra errata di qualche mezzo o a causa di un incidente, ma è sempre più necessario dotare il centro storico e altre aree della città di un sistema di videosorveglianza, anche alla luce di altri episodi vandalici o furti avvenuti in questi mesi, soprattutto nel centro della città. E questa mattina ci siamo recati con le nostre telecamere al mercatino del mercoledì. Abbiamo realizzato alcune interviste chiedendo alle persone una loro opinione sulla città. Sentite che cosa ci hanno risposto. Buongiorno signora, la disturbiamo un attimo a fare la spesa al mercatino? Grazie, sì, a prendere qualcosa. Senta signora, una domanda, lei di Alghero? No, io sono di Sassari, cioè neanche di Sassari, sono di Osilo, abito alla periferia di Sassari, però mi piace Alghero, è una bellissima città. Vive qui? Pulita dovrebbe essere. Lei vive qui? No, non vivo qui, vivo a Sassari. Come la trova comunque? Viene spesso? Sì, vengo spesso perché è una bellissima città, mi piace molto, c'è il mare, insomma, tutte queste cose. E vorrei che tutti venissero ad Alghero. Che cosa, come la trova? Bella, più bella di così non si può. Bellissima. Io venivo da ragazzina di sei anni ed è una città ottima, bellissima. C'è qualcosa che lei pensa si debba sistemare? Sì, un pochino più pulire, più le aiuole, queste cose qui, come può essere qui, tutte queste, pulire così. Quindi più pulizia? Sì, più pulizia. E lasciare che i giovani si divertono sulla spiaggia, perché ho letto sul giornale di ieri, ecco, che ballino, che fanno quello che vogliono, perché non disturbano affatto a nessuno. La sabbia non parla, non la possono disturbare. Buongiorno signora Lady Alghero. Buongiorno, no, sono di Chivasso. Quindi Piemonte? Sì. In vacanza? Sì. Come trova Alghero? Scelto Alghero? 18 anni che vengo a Alghero, però la trovo sempre uguale, un po' molto sporca. Non c'è l'immondizia indifferenziata che possano i bidoni essere vicino da poter buttare la roba, buttano tutto assieme. Buongiorno signore. Buongiorno. Al mercatino a fare spese? Sì. Siete di Alghero? No. Siete in vacanza? Vacanza, sì. Quanti anni venite ad Alghero? È la prima volta? 32 anni. Ah, quindi 32 anni, ormai siete praticamente algheresi di adozione. Sì. Come trovate la città da 32 anni a questa parte che venite? Migliorata, leggermente migliorata. Però anche più incasinata. Che senso signora? Che senso che non riesci più a girare in macchina, non... Magari perché c'è traffico? Mancano parcheggi. Mancano i parcheggi? Sì. Mancano parcheggi, veramente mancano parcheggi ad Alghero. Comunque basta destreggiarsi, conoscerla un pochettino. Però ci tornate da 30 anni. E lei signora? Io sono Alghero. Sarda proprio. Sarda, sarda. Come vede Alghero? Bene. Benissimo. Io ci vivo qua. Sta bene. Come trova Alghero? Beh, io ci vivo quasi, quindi... Lavoravo qui prima, eh. Quindi... Alghero, dal punto di vista naturale, è uno dei luoghi più belli del mondo. E gli amministratori dovrebbero sforzarsi di più, di tenere conto che viene gente da fuori, che ha visto altri posti, e se fosse più pulita, più ordinata, sarebbe una gran cosa. E lei cosa ne pensa? È la stessa cosa, come igiene, pulizia, non... Niente, è sporco. La pinetta non ne parliamo, le strade, vediamo i cassonetti, i buchi, no, no, no. È la stessa cosa, ci sono le aiuole tutte sporche, i cosi, ci sono i... i buchi, tante cose. Ma lei parla delle strade? Delle strade, dei giardini e della pinetta, tutto sporco. Ed ora parliamo, anzi restiamo, in ambito di pulizia e decoro, perché non mancano le segnalazioni rispetto al bancato ritiro della spazzatura di vario genere. Dal centro alla periferia aggiunge ogni giorno notizia, correlata anche da foto, di alcuni siti che ospitano cassonetti che risultano essere stracolmi. Ma non solo, le persone che non possono conferire all'interno dei contenitori le buste le lasciano per terra, andando a formare cumuli di immondizia che con questo caldo rilasciano davvero un tanfo che si propaga tutto intorno. Le immagini che vedete sono state scattate a guardia grande e inoltre raccogliamo e riferiamo di lamentele da parte dei cittadini per la mancanza di cassonetti in alcune zone della città, specialmente in un periodo come questo, quando Alghero conta una popolazione più ampia, visto l'arrivo anche dei vacanzieri. E con una mozione che vede primo firmatario Michele Paes, Forza Italia richiede che in Consiglio Comunale venga affrontata la discussione riguardante l'area metropolitana del nord Sardegna, sottolineando come altri comuni del territorio si siano già espressi in merito. Mentre il sindaco di Alghero ha le prese con i riassetti della propria maggioranza, assolutamente inutili, anzi dannosi per la buona amministrazione della città, ancora in Consiglio Comunale non è approdata la discussione su un tema di cruciale importanza per il futuro inerente l'istituzione dell'area metropolitana del nord Sardegna. Con una mozione Michele Paes e Forza Italia richiamano l'attenzione, sottolineando come si tratti di una delle uniche possibilità a disposizione dei comuni per intercettare importanti finanziamenti europei, i fondi PON che il governo regionale pretenderebbe di monopolizzare attraverso l'istituzione di un'unica area metropolitana di Cagliari, attacca. Tutte le città del nord Sardegna hanno approvato mozioni per l'istituzione dell'area metropolitana del nord Sardegna, consapevoli dello scippo in atto, scrive Paes, sottolineando come all'appello manchi al ghero. In un momento storico caratterizzato da scarsezza di risorse, sarebbe meglio concentrarsi su un'amministrazione responsabile ed efficace della cosa pubblica, piuttosto che dilettarsi in ameità, come quelle che le cronache di queste ore ci rappresentano, attacca l'esponente forzista rivendicando l'onere di attivare nell'immediatezza, prima che sia troppo tardi, una discussione sul tema in Consiglio Comunale, presentando una mozione che impegni il sindaco, non autonomamente, ma investito dal formale necessario mandato da parte dell'Assemblea Civica, d'intesa con gli altri sindaci e consiglieri regionali del territorio del nord Sardegna, a promuovere un'azione formale nei confronti della regione per l'istituzione dell'area metropolitana del nord Sardegna. È giunto il momento di fare una pausa per la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo. Ritorniamo in studio con un comunicato stampa congiunto a firma dell'assessore alla cultura e al turismo Gabriele Esposito e all'assessore alle attività produttive Natascia Lampis, il Comune fa sapere che verrà aperto un ufficio eventi dedicato esclusivamente ad accompagnare le associazioni nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative preliminari all'ottenimento delle autorizzazioni per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Sentiamo i dettagli. Se non si tratta di un mea culpa, poco ci manca. Dopo il caos scaturito dal blocco, la manifestazione Music Wellness che ha provocato una marea di polemiche soprattutto sui social network, il Comune prova a mettere una pezza. Allo studio ci sono infatti alcune novità dirette a snellire l'iter autorizzativo attualmente vigente che vedono l'apertura di un events office in stretta collaborazione con la programmazione dedicato esclusivamente ad accompagnare organizzatori e titolari di associazioni o cooperative artistiche nell'acquisizione di tutte le autorizzazioni obbligatorie nell'espletamento delle pratiche amministrative. E' questo l'impegno preso dagli assessorati alla cultura, turismo e attività produttive già dall'autunno-inverno 2015. Due, gli obiettivi. Incentivare e sostenere il rinnovato fermento artistico-culturale locale ed evitare che si incorra in errori o ritardi nella valutazione o rilascio delle singole pratiche. In sostanza, evitare che accadano episodi analoghi a quello di alcuni giorni fa che peraltro ha rischiato di penalizzare gli stessi organizzatori. Si partirà dalle prossime settimane con la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che vedrà coinvolti, oltre agli uffici competenti, i maggiori portatori di interesse in modo tale da rendere operativo un nuovo sistema gestionale per l'avvio della prossima stagione turistica estiva. Si è concluso in Turchia il progetto interculturale iniziato nell'ottobre 2013 che ha coinvolto in rappresentanza dell'Italia la scuola primaria di Olmedo. Finanziato dall'Unione Europea, porta il titolo The Adventure of a Wheat Seed, cioè le avventure del seme di grano. E vi è aderito una scuola per ciascuno dei sei paesi europei partecipanti quali Bulgaria, Polonia, Italia, Spagna, Slovacchia e Turchia. Tra le finalità principali del progetto c'erano la valorizzazione del pane come alimento sano e fondamentale per l'alimentazione dei popoli e la conoscenza della storia, delle tradizioni e degli usi a esso legati nelle differenti culture europee. Questi ultimi due anni scolastici per gli alunni di Olmedo quindi sono stati ricchi di laboratori, degustazioni e scoperte sulle tradizioni legate al pane e alla farina di grano sia del proprio territorio sia di quello dei loro coetanei nei paesi europei legati al progetto. L'ultima tappa dell'avventuroso progetto si è svolta in Turchia, come detto, nella città di Izmir nel mese di giugno. Anche in questa occasione le delegazioni degli altri paesi sono state accolte in un clima festoso con canti, balli, costumi tradizionali e l'immancabile banchetto a base di piatti tipici e pane caratteristico. Gli insegnanti e gli alunni della scuola ringraziano tutte le aziende che hanno sostenuto le attività di progetto nel corso dei due anni di lavoro, in particolare il panificio Cherchi di Olmedo per la generosa disponibilità. E passiamo ora a parlare del concorso ARES-ES giunto alla terza edizione che ogni anno vede un numero sempre più alto di partecipanti. Proprio perché ci sono state diverse richieste da parte di autori, il termine dell'escrizione è stato prorogato fino al 15 di novembre. Omnium Cultural dell'Alghè, d'accordo con gli altri enti collaboratori, ha deciso di riaprire termini di partecipazione al concorso di video ARES-ES fino al 15 novembre 2015. Questo per andare incontro alle richieste pervenute da parte di diversi autori. Il concorso ARES-ES, giunto alla terza edizione, è organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero, con il contributo della Fondazione MET e delle Spai Luglie ed è nato con l'obiettivo di diffondere e di incentivare l'uso del catalano di Alghero soprattutto tra le nuove generazioni, anche tra quelle persone che non conoscono perfettamente l'algherese. Si divide in tre sezioni, scuole, amatori e professionisti, con un premio per ciascuna, per la sezione scuole o laboratorio di educazione all'audiovisione della durata di 10 ore, a cura della Società Umanitaria di Alghero ed inoltre un premio in strumentazioni digitali pari ad un valore di 500 euro, messo a disposizione dalle Spai Luglie dell'Alghè. Per la sezione amatori un premio in danaro pari a 400 euro, messo a disposizione dall'Omium Cultural dell'Alghè. Per quella professionisti un premio in danaro pari a 1000 euro, messo a disposizione dalla Fondazione META. La partecipazione al concorso è gratuita, senza limiti di età e di nazionalità. Non ha nessun tema obbligatorio, l'unico vincolo è costituito dalla lingua. I filmati devono essere realizzati totalmente o prevalentemente utilizzando l'algherese. Sono ammessi tutti i formati di ripresa più comuni. I lavori possono essere presentati a Omium Cultural dell'Alghè, in via Mazzini 99, chiamando anche il 345 4419 086, a partire dal 15 settembre e dentro e non oltre il 15 novembre 2015. Il bando e la scheda di partecipazione del concorso. Oltre le informazioni possono essere richieste inviando una mail all'indirizzo omnium.alguer-gmail.com o umanitaria.alghero-libero.it Ed ora passiamo allo sport. Come abbiamo detto nell'edizione di ieri del nostro telegiornale, sia 1945 Alghero che Fertilia hanno perfezionato domanda di iscrizione per il prossimo campionato di promozione regionale. Nella società giallorossa rimangono aperte le porte per un eventuale ingresso di nuovi imprenditori, mentre in casa Fertilia ci sono da registrare diverse novità. Ad iniziare dalla presidenza con Aurelio Ferroni, che ha deciso di lasciare il timone, seppure restando per dare un contributo al suo posto, alla guida della società Morris Ferraresi. Come avevamo anticipato già la scorsa settimana, invece il nuovo allenatore Angelo Bardini, per diverse stagioni alla guida del Maristelle in seconda categoria, Resta l'obiettivo di puntare forte sui giovani, anche se molti di quelli che si sono distinti nelle ultime due stagioni avrebbero richieste da alcuni club sardi di categoria superiore. Uno di questi, l'attaccante Luca Scogna Millo, ad esempio, che avrebbe già trovato un accordo con il latte dolce dell'ex allenatore giallo-blu Massimiliano Paba. Il calcio chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.